E sì, è arrivato finalmente il momento di scoprirla, la Yamaha Tenere 700. Per anni abbiamo aspettato che arrivasse questa moto nei saloni di Milano, prima in versione prototipo, poi in via di definizione e alla fine finalmente il prodotto finito di quello che sarà appunto questo nuovo modello. Vi aspetto mercoledì 15 maggio a Napoli presso la Rima concessionario Yamaha per Napoli e Provincia che si trova in via Arenaccia 5965. Faremo insomma una serata di presentazione della moto, la vedremo dal vivo, scopriremo quali sono gli obiettivi di Yamaha per questa motocicletta e poi ci sarà insomma un buffet. Quindi vi ricordo la data, mercoledì 15 maggio dalle 18 in poi, vi aspetto alla Rima dealer Yamaha per Napoli e Provincia per vedere e scoprire da vicino la nuova Tenere 700. Non mancate!